Bene, è giunta la mia ora. Devi continuare il tuo viaggio senza di me. Cosa state? Aspettate! Il Bracken c'ha i glutei. Il bro... glutei? Sì. C'è un soldato. Il soldato ha paura che sparerà e ucciderà i Butler e fa un casino. Troppo dispensato. Quanti cazzo sono? Quanti cazzo. Quanti cazzo. Quanti cazzo. Quanti cazzo. Oh, cazzo! Quanti cazzo. Quanti cazzo. Quanti cazzo. Quanti cazzo. Ahahahahahahaha. Benvenuti. La guerra. Vinchio guardala! Quanti cazzo rossi. almeno me ne sono andato a guardare c'era un macerno di tiri io stavo giocando a Doomli c'è un regalo oh vado in tiri posso dare un consiglio? un pro tip i regali conviene aprirli in nave perchè a volte sono oggetti da due oh ok è una strategia è strana è una strategia insomma almeno lo so grazie è il tuo primo gioco ma non c'è un cazzo qua sopra no ho visto una creatura però dov'è? non lo so forse è di qua guarda la porta no vogliamo davvero andare su comunque guardati le spalle perchè qualcosa non quadra qui ah ho capito qui è giù comunque si credo che non siamo da soli guardati le spalle è vero c'è qualcosa là giù? no fai luce su fai luce su fai luce lì però fai vedere se c'è qualcosa lì se c'è una porta però forse possiamo girarlo ok ricordi quando ho detto non siamo soli? si ricordi quando ho detto guardati le spalle? si si quello lì esci lo provo a uccidere tu scappa ho vinto vieni 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 no no vieni hai vinto hai battuto vieni vieni questo è il mio unico scopo in questo gruppo tu sei quello che sa come sbattacchiare si però dobbiamo fare attenzione perchè non era solo c'era l'uomo oh oh porco di quelli no ma non no no un po' no non tutti quanti sono bloccati in leva non ma è che ogni volta che sto io mi préfò la genetica che ha in mano è una roba accumulata do they hear my keyboard? yes let's go something no 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 what the fuck the dogs bodyblock my job stay in it for me oh my god leave who's that pudding please what the fuck ok ok no no let's go let's go 1 2 3 let's go ok 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 ultrassi di like si, lo vendo fanno finché è pisciato con le pisciate e poi un po' da un po' da un po' da un po' da l'unico Dovevo fare il piso? Fattami. Su, vada su. Giovanni Contuso. Il frigobar qui che cos'è? C'è il terminale. Com'è che hai una torcia impiantata nel cranio tu? In che senso? Stai facendo luce. Ah? No. Sì. Osserva. Osserva. Ma è vero, ce l'hai... Io lo vedo nella... Sei un teletubbis. ...palla. Lo vedo nella spalla, tipo. Produce luce. Paura. Oh, c'è un... Ecco, bambina. Ehm, mo' sono cazz tua. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. C'è una bambina. C'è una bambina. Ehm, è lì. Eh, non toccarla? No, non l'ha toccata. Non l'ho più guardata di sparita. Come le bambine, vero. Ah, bisogna andare via. Perché? Perché so pieno? Io no. Va bene, ho capito, sono contento per te. Porco, c'è troppa roba. C'è una bambina, c'è una bambina, c'è una bambina. Ma c'è altra roba grossa, aiuta. Ma, ma perché non ti hanno scorto? Dovino che ce l'ha la bambina adesso? Possiamo andare via? Sì, no, basta ci si sbriga per... Ah, è tanto quando ti dicevi dove non uscire. Ah, è tanto quando ti dicevi dove non uscire. Ah, è tanto quando ti dicevi dove non uscire. Avevi una danna. Ma... Quella... Non lo stavo guardando? Ehm... Ha detto skill issue. Brutto suono. Ma quel loot bug mi ha... Ha tirato la mia? Jove. Dog. Man. Who made the noise? Was it Arya? I'm not sure. Because Leo cannot make noise. He doesn't have a microphone. Perhaps the computer? But that should be enough noise. Could have been the computer. No, no, the computer is an asshole. It killed me already once. I'm sorry to believe. Bracken just came to the door across the way there. Oh, that's the soldier. Oh, that's the soldier. Okay, we... Soldatino. We should just leave. Come on. Yeah, we need to leave. Go. Oh my god. What the fuck? What the fuck? It's so crazy. How did... How did Dalen not die from that? What the fuck is it? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Che bel verso, chiamate. Che bel verso, chiamate. Che bel verso, chiamate. Che bel verso, chiamate. Ale, ho fatto una scoperta. Ho fatto una scoperta. Cioè? Il verme può uccidere il robot. Il verme può uccidere il robot? E' appena mangiato io, non mangiato. Beh, oddio, se ci pensa, ha anche senso. Ok, ehm, sì. Minca, non... Ah, non c'è che dirti... Non c'è niente? Ho provato, no. C'ho la bimba, bordo di... Mi son cagato. Mi gioco! Che paura! Mi son legittimamente cagato anch'io stavolta. Che bel verso, chiamate. Allora, è strano perché tu sei ghost e tu lo vedi in un modo, chiunque altro però vede che Rainey non ci dormi. Ma sono l'unico che lo vedeva? Sì. L'unico? Sì. Perché, non so, Ari, però con tutti gli altri abbiamo commentato sul fatto che la Rainey e le pozze. Per dire... Eh, ma adesso che... No. Ok, Ari è appena passato sopra il fulmine, quindi... Eh... Non, non... Cioè, allora... Cioè, tipo... Te l'ho detto, e c'è il weather che è client-side al momento. Il weather a bordo. E con fulmine sta per colpire la pala che ha... Sì, 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 sì. Sì, sì, sì... Non ci sono? Sì, sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.